Agroforestazione, rispetto della terra, farmaci naturali, riciclo, inclusione, agricoltura eroica, parole queste emerse dalle finali regionali Oscar Green, il premio ideato da col diretti giovani imprese riservato agli agricoltori under 40 che si distinguono per innovazione, sostenibilità e sociale. Le premiazioni si sono tenute a nuoro nell'anfiteatro del centro polivalente occupato per l'occasione da circa 200 giovani agricoltori provenienti da tutta la Sardegna. A fare gli onori di casa il delegato regionale di col diretti giovani impresa Frediano Mura insieme al presidente direttore regionale di col diretti Battista Qualbu e Luca Saba e al segretario nazionale dei giovani Stefano Leporati. Sono i modelli dell'agricoltura proposta dai giovani agricoltori che coltivano una Sardegna sostenibile, attenta alla salute del pianeta e alle fasce più vulnerabili della società. A vincere nelle sei categorie sono stati Filippo Podda, 32 anni, di Meana Sardo, con la cantina Terre del Mandrolisai, nella categoria impresa digitale. Teresa Dejana, 24 anni, dell'omonima azienda agricola di Buduzo, nella categoria campagna amica. Roberta Farigu, dell'azienda agricola Otto Flowers Tortoli, in collaborazione con l'associazione officina creativa Ianas 5, nella categoria coltiviamo solidarietà. Emanuele Dettori, 31 anni, di Olbia, nella categoria fare filiera con il progetto Priamamed. Stefania De Murtas, 31 anni, e Salvatore Marongiu, 35 anni, di girasole, nella categoria energie per il futuro e sostenibilità. Secondo posto per Francesco Vinci, dell'azienda L'Amora Bianca di Assemini. E infine Francesca Mareiu, 32 anni, risorgono nella categoria custodi d'Italia.